Non trovavo la mamma, stavo uscendo, sono scivolato in piscina e ho battuto il coccite. E sono perduto in piscina. Mi sento in acqua, e ti hanno aiutato i tuoi amici. E' molto bravissima. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato quattro piccoli eroi. Sara, Martina, Giulio e Deborah. Hanno salvato la vita Gabriele, otto anni, quest'estate, mentre stava per affogare nella piscina del campeggio di Bivigliano. Un po' di lilla, maschera, penna d'acqua. Ma tu ti sei spaventata? No. Sara si era buttata nella piscina grande e ha visto questo bambino, Gabriele, in fondo alla piscina. Allora mi ha chiamato, e io ho chiamato Giulio, e insieme ci siamo tuffati. Poi è arrivata anche Deborah, che ci ha sentiti, e siamo andati tutti insieme giù, e l'abbiamo sollevato e l'abbiamo tirato su. Noi ci si stava trovando in piscina il campeggio di Bivigliano, quando a un certo punto Sara vede Gabriele al fondo della piscina, allora io, Martina e Sara ci tocchiamo, viene di corsa anche Deborah e lo tiriamo fuori. Sento loro e parlano di Gabriele, che non si muoveva in fondo alla piscina, e sono andata lì, ho chiesto cosa è successo, e loro hanno detto che c'è questo bambino e non si muoveva, quindi senza pensare siamo andati giù, abbiamo tirato su, fuori, abbiamo chiamato aiuto. Avete mandato un bel messaggio a tutti, non soltanto ai vostri coetanei, ma ai più grandi, a tutti, perché abbiano lo stesso spirito di aiuto reciproco che voi avete mai interessato.